L'edizione di Vinitaly incrocia alla festa per i 30 anni dal riconoscimento DOCG del Taurasi. Il rosso erpino ha conquistato nel frattempo i mercati e le tavole più importanti del mondo. Il riconoscimento di OCG al Taurasi, che ha segnato il primo di OCG in Italia Meridionale e ancora è il più importante in Italia Meridionale tra i vini rossi, ha stravolto il territorio dal punto di vista anche paesaggistico. Le nostre colline, basta guardarsi intorno, sono state ridisegnate. C'è l'innesto di nuovi vigneti, di nuove varietà che hanno dato un aspetto diverso anche dal punto di vista paesaggistico al territorio. Ma cosa più importante, basta guardare le statistiche della Camera di Commercio, il PIL nel settore enologico schizza alle stelle. La Campania è una terra ricca di eccellenze e peculiarità, come sottolinea Antonio Limone dell'Istituto Zoo Profilattico del Mezzogiorno. Ma noi siamo una terra di biodiversità. Dobbiamo capire che la biodiversità nella nostra realtà è frutto di una condizione straordinaria che la natura ci ha data. E ce l'ha data perché la regione Campania è Campania Felix per tre motivi. Perché ha un'incidenza dei raggi solari al suolo particolare, c'è uno studio del CNR che lo dice bene, perché siamo terre vulcaniche e perché siamo una terra che ha delle condizioni pedoclimatiche particolari. Questo fa in modo che nella nostra provincia anche le varietà del vino sono così diverse. Noi in un triangolo tra Castelfranci, Taurasi e Paternopoli abbiamo delle varietà di uvaggio completamente diverse che arricchiscono la nostra straordinaria qualità.